come dicevamo due giorni fa Piacenza è viva, Piacenza è più che viva, vince anche Carri a 4, sicuramente una serata ancora più bella, ancora una bella cornice di pubblico, ancora una bella partita da vedere per i tifosi, per gli appassionati, per tutti. Una serata incredibile, ormai non ci sono più parole perché sembra un film, un film dove grazie a Dio la parte finale, il lieto film è stato per noi, prima di tutto sottolineo la cornice di pubblico, spaventosa, pubblico incredibile, anche persone che sono avute vedere la partita, che non sono abituate a vedere il basket mi hanno detto ma come mai è stata in Serie B con una cornice di pubblico così, con una serie del genere, con un attaccamento di questo tipo, infatti ci stiamo cercando in tutti i modi di non starsi, poi la squadra è sempre stata lì, sono venuti molto difficili, è logico che ti sembra sempre che si possa fare qualcosa di diverso, ma è difficilissimo perché poi c'è anche un fattore emotivo molto importante, per questo abbiamo fatto, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, abbiamo messo a posto la serie e adesso mercoledì andiamo a domenia e siamo convinti. Sarà una partita intensissima anche quella, peraltro seguito da Piacenza ci sarà anche in quel caso, quindi si continua il segno della serie. Adesso organizzeremo subito la trasferta, cercheremo di fare in modo che venga più gente possibile, quindi andremo ad offrire la trasferta, non faremo gratis perché la prima partita è facendo tutto gratis abbiamo perso, quindi metteremo un euro simbolico, però penso che verranno tante persone perché vedo proprio l'attecamento che hanno i nostri confronti e ci siamo, ci siamo, siamo pronti e andiamo veramente con le palle che viene dimostrato in queste due partite.